Ecco, in questa bella giornata del mese di febbraio siamo in piazza dell'incontro con l'amico di vecchia data Antonio del Torrione. Io ti ringrazio innanzitutto per aver accettato questo mi invito a narrarci qualcosa sulla storica villa d'Urso che sorgeva appunto in via Serino Pugliese alla stazione. Questa villa è rimasta nel ricordo di tutti i gioiesi di una certa età perché giustamente i giovani non la ricorderanno in quanto negli anni 70 è stata demolita. Ecco, con te desidero caro Antonio dare un ricordo naturalmente anche perché tu sei nato in quel luogo e quindi immagino quanti ricordi potrei avere. Ecco, ti prego di raccontarmi qualcosina diciamo. Innanzitutto i ricordi miei risalgono dal 1944 in poi diciamo, però quello che devo dire maggiormente il signor Cavaliere d'Urso, mio zio, era venuto a Gioia Tauro dalla Napoli di allora per gestire un commercio d'olio. Nella parte sinistra della villa vi erano infatti dei magazzini di olio che uscivano sulla via Torino. Anche perché erano vicini alla stazione. Anche perché erano vicini alla stazione. Anche perché c'era un cancello che andava direttamente alla stazione dove potevano caricare tutte le cose, ogni cosa. Loro allora abitavano nel... Nel villino? che c'era un villino? No. Dai miei ricordi quello che ricordo è che abitavano nel palazzo. Sì. Che allora perché gli altri le altre case al di fuori dello chalet che già esisteva. Sì. Non c'erano perché in quella zona là erano dei tutti i magazzini che gestivano questi prodotti. Lui comunque quello che posso dire è che era una persona squisita, una persona generosa. Infatti lui aveva accolto in casa tutta la mia famiglia dei tripoti che poi... e del Cagliostro che poi era quella di mia madre perché mia nonna era sposata con il Cagliostro che era di Mastaveto e quindi le aveva accolti tutti quanti in casa della sua. E le ha gestite tutti come dei figli e a noi come dei nipoti d'altra parte. Lui era affascinato dal... la villa in se stesso. La manteneva in un modo splendido. Sì. Sì. Vieno delle voliere con degli uccelli, delle lampioni che illuminavano alla sera tutti le aiole ed era appassionato. Lui col passare del tempo si era affezionato a tutto e a tutti però non voleva che gli si passi neanche un ramo di quello che esisteva nelle aiole perché si arrabbiava in modo tremendo. Sì. Però era come al solito generoso. Tant'è vero che dava la villa agli universitari a loro. Sì. Ecco questo aspetto lo affrontiamo un attimino subito dopo. Ecco io volevo un attimino anche così a livello un po' storico anche perché come ti dicevo poc'anzi ho ricevuto anni fa uno scritto della signora De Luca. Sì. molto probabilmente siccome era molto amica di donna Sara la signora Franca e avrà sicuramente diciamo ascoltato nei racconti la signora Sara diciamo nel tuo racconto e quindi mi diceva in questo scritto che che la la villa era stata impiantata dal padre di don Carlo quindi molto probabilmente quella villa lì diciamo è di fino ottocento insomma sarà 1850 1860. Quando lui è arrivato qua ha costruito lui la villa. La villa era già con l'alberi secolari. E' certo. E' certo. Gli alberi erano quelli secolari. I secolari. Quindi sì. Quindi gli alberi di ogni tipo, di ogni genere. Sì. Quindi era impossibile. No sì infatti. Infatti ecco e questo dobbiamo dirlo perché giustamente era veramente un luogo storico anche per Gioia Tauron ad essere quello che tu stavi per accennare un luogo di divertimento e di svago per tutti noi anche perché poi tutto sommato io la ricordo in alcuni anni che l'ingresso era libero faceva entrare insomma le porte erano sempre aperte. Sì sì sì. Lui non aveva. Non aveva. Non aveva per nessuno. Certo. E quello che io invece non sapevo è che entrando dal lato diciamo sud, il cancello sud, entrando c'era un'altra costruzione dove appunto tu sei nato. Inizialmente lì c'era uno chalet che poi è stato distrutto nel periodo della guerra. Io almeno da quello che mi raccontava mia madre, sono nato in quella zona lì, parte lì della villa. Però ricordi ne ho poco. È stato distrutto da un incendio Antonio? È stato distrutto nel periodo della guerra. Sì sì, nel periodo della guerra. Anche perché da qualche notizia diciamo che ho avuto sono entrati forse i tedeschi insomma è stato... Sì sì. Certo, nel periodo della guerra. Sì sì. Ecco, comunque... Erano spollati, erano andati via... Certo. Quindi al di là di questo luogo magico che per noi lo era, ecco quello che stiamo raccontando lo dedichiamo anche a Don Carlo d'Urso perché come tu hai detto precedentemente è stata veramente una persona molto... Sì, era una persona gentilissima. Sì. Lo rispettavano tutti. Certo. Lui era rispettato da tutte le persone. Certo. Chiunque lo incontrava... Si rivolgeva con Garbo. Io lo ricordo anche perché adesso non ricordo esattamente quando è morto ma lo ricordo perfettamente insomma come... Sì. E' così insomma... Infatti dopo alla fine della guerra lui con la sua grande magnanimità concedeva questo luogo alle feste, alle grande feste del tempo e qui mi devi raccontare... E qua mi devi raccontare qualcosa perché io so qualcosa ma tu penso che sicuramente... Sì no... Le grande feste universitarie ma principalmente che gli universitari allora gestivano le feste universitarie in un modo spettacolare. Sì. Tant'è vero che nel... In quella villa dove quando ci facevano queste feste vi erano messi dei tavolini, venivano gestiti tutte... Il buffet da parte di Nino Stanganelli. Si è Nino Stanganelli. Nino Stanganelli. Organizzava tutto il... Organizzava tutte le feste poi... E poi ricordo... Tutte le... Quelle che... Gli universitari facevano queste cose queste feste noi abbiamo avuto... gente della grande importanza che sono venute lì per queste feste. Si. Hanno portato a Murolo allora... Ah vedi questo non mi è nuova... Roberto Murolo. Stagna. È vero che... E allora... E... 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 E quindi... E... È venuto... il grande attore Raffa Vallone quando è venuto Raffa Vallone allora penso che abbia chiuso i ponti con tutti perché gli hanno rovinato ogni cosa perché per vedere Raffa Vallone la gente ha rotto le ringhieri perché non è che potevano entrare tutti quanti gli universitari facevano più o meno in certa selezione però ognuno voleva vedere allora Raffa Vallone all'epoca era il grande attore calabresi di nascita e quindi e quindi forse da quella serata poi decise forse penso sì che da allora in poi i universitari si sono rivolti altrove ma guarda io ne ricordo uno nel 64 gli universitari organizzarono una festa della matricola io c'ero me lo ricordo e quindi la serata conclusiva l'abbiamo organizzata appunto nella vila forse sarà stata credo l'ultima festa organizzata nella vila probabilmente sì probabilmente sì perché la ricordo anzi l'idea all'erbo è stata anche un po' mia perché nel 64 64 perché e io guarda nel 64 è stata organizzata con in arfuso questa questa festa della matricola vabbè comunque sarà non sarà stata ma il 64 poteva esserci guarda io la ricordo perfettamente insomma questa serata vabbè fa nulla fa nulla dai nella vila no perché penso che lui era già morto nel 64 ma forse la concessione alla festa è stata da voi darsi pure che Don Carlo era morto insomma vabbè non è un problema l'importante è che in questo momento non te la ricordi io credo di non sbagliarmi perché ho partecipato a questa festa e quindi forse era l'unico luogo sì anche perché la ricordo vabbè comunque insomma importante è che era un luogo di grande socializzazione anche perché all'epoca non c'erano molti locali dove poter poter diciamo ecco accogliere diciamo c'erano grandi locali infatti certo qualcuno che me ne ricordo io qualcuno che hanno fatto lì nei locali della superfiltramide sì sì però oppure qua sotto dove c'era la sala di Cardona eh sì la sala di Cardona qua in piazza Matteo più o meno questo qua ecco ecco è un altro ricordo che non abbiamo e che io diciamo ho sempre visto c'era dello chalet dello chalet tu hai da dirmi qualcosa ricordi quando è stato lo chalet quando è stato costruito no non te lo ricordo certo perché l'ho trovato già fatto però per sentito dire sapevo sentito dire che lo chalet quando è stato costruito sono arrivati in due modelli sia questo della Villa Russo sì sia quello di Galeso eh sì questo sono a corrente insieme sì sono stati gli anni di preciso sì comunque guarda io ho un documento fotografico storico del villino di Galeso sì dove si vede appunto sulla via Regina Margherita ed è una foto del 1904 dove sul lato sinistro sono tutte quante baracche ti parlo di via Regina Margherita l'unica casa che c'è insomma era il villino di Galeso lo si noto perfettamente quindi molto probabilmente anche il molto probabilmente era la stessa eh sì eh sì era la stessa sì perché alla stessa costruzione aveva anche la stessa costruzione la stessa tipologia diciamo sì sì e quindi lì abitava poi Don Carlo qui non ci abitò quasi mai diciamo lì sono stati quello che ricordo io un certo Bergallo sì che lavorava con le arance era un genovese se non ricordo male sì che abitò per diversi anni per lo salere ma gli altri poi negli anni più recenti diciamo una volta anche costruita la palazzina diciamo lì poi altre famiglie sono arrivate il ricordo mio personale storico e anzi la ricordiamo della signora Bertini per tanti anni per tanti anni abitavo lì con la sua dama di compagnia certo Angelina Mosca Angelina Mosca bene 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 Antonio potremmo raccontare altre cose ma al momento ecco certo però ci tenevo ci tenevo perché i tuoi ricordi diciamo sono ben precisi e quindi insomma ecco è il mio vissuto è il tuo vissuto certamente è il tuo vissuto ecco cosa poter aggiungere altro lo ripetiamo sempre è stato un peccato a distanza di oltre 50 anni ripetere il fatto che è stata diciamo così eliminata però questi sono fatti che sono così sono storici ecco certo beh ma quello eh beh avranno avuto le buone regioni allora poi ha lasciato tutto un nipote sì va beh c'era una questione ma è appunto non entriamo non entriamo nel merito e il ramarico che che non c'è più e quindi insomma è quello è quello bene Antonio io ti ringrazio di questa testimonianza abbiamo parlato un bel po' ecco questo video rimarrà diciamo così nel ricordo di tanti e se mi permetti lo lo trasferirò anche alla conoscenza di altri gioiesi perché abbiamo parlato di un luogo che ricorda la nostra gioventù un luogo che ricorda la nostra gioventù e un luogo che è la gioia tauro era un simbolo era un simbolo certamente bene grazie ancora Antonio buon proseguimento e buona salute grazie ciao ciao la signora dietro ci ha attentamente seguita e grazie ancora anche il mio Ettorino presente presente e presente a questa ecco qua bene di nuovo grazie Antonio ciao grazie a tutti